Debutterà venerdì 1 marzo a Francavilla presso il Palazzo Sirena Paganini Swing, l'originale e divertente concerto dedicato ai capricci del compositore genovese, orchestrati e arrangiati per la produzione in chiave swing dal celebre Roberto Molinelli, che per l'occasione dirigerà i professionisti dell'OSA e il trio jazz Nosso Brasil, formato da Gianluca Persichetti, Stefano Rossini e Matteo Esposito, con il violino solista e il maestro Ettore Pellegrino, direttore artistico dell'istituzione sinfonica abruzzese. Tre le repliche per la 44esima stagione dell'ISA all'Aquila, sabato 2 marzo alle 18 presso il Ridotto del Teatro Comunale, a Tortoreto presso il Centro Congressi del Salinello, domenica 3 marzo e lunedì 4 marzo alle 21 ad Atri sul palco del Teatro Comunale. Dal genio di Paganini alla fantasia di Roberto Molinelli, il fascino del concerto risiede nel dialogo tra l'esecuzione classica dei capricci affidata al maestro Pellegrino e l'esecuzione di ogni brano in versione swingata, nella quale sarà dato ampio e libero spazio all'improvvisazione, ad opera dello splendido trio Nosso Brasil, a formazione jazz specializzata nella musica brasiliana e sudamericana. Il pubblico avrà la possibilità di vedere all'opera, oltre ai professori dell'orchestra sinfonica abruzzese che stanno vivendo un momento intenso di impegni e successi, grandi professionisti provenienti da esperienze diverse che offriranno esibizioni di altissima qualità.